Saveria, Saveria, non ti stiamo sentendo, perdonami, adesso ci vuoi spiegare appunto chi sono, dove si stanno dirigendo, vanno ad omaggiare il nuovo Papa? In questo momento la schiena... Si schienano sotto il barcone, sul Sacrato. In questo momento è la banda appunto della gendarmeria, il picchetto d'onore degli svizzeri che essendo la guardia armata del Papa vanno con le alabarde, con le armi di ordinanza storiche, quelle che tanti anni fa, 500 anni fa in pratica difesero il Papa quando dovete fuggire a Castel Sant'Angelo e con lo standardo, con i loro standardi si schienano per rendere omaggio al Papa quando si affaccerà dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, la loggia esterna. Fino a quando c'era l'unità d'Italia il Papa si affacciava nella loggia interna, perché dopo l'unità d'Italia il Papa non riconobbe ovviamente lo Stato italiano e quindi si affacciava verso l'interno di San Pietro.